Assenze e spaccature sulla centrale del Mercure. Questo è il dato più significativo emerso ieri a Castrovillari durante la riunione della comunità del Parco del Pollino, che si sarebbe dovuta esprimere sul destino dell'impianto a biomasse. Mancava il numero legale dopo la bufera che lunedì ha provocato l'aggiornamento della seduta per intemperanza da parte del pubblico e il forfè, nella giornata di ieri, del 90% delle amministrazioni lucane. Queste ultime si sono dichiarate d'accordo con le posizioni contrarie di Provincia di Potenza, Regione e Basilicata, ma non presentandosi hanno impedito lo svolgimento della riunione. Nel vessante calabrese invece piovono critiche da parte dei favorevoli, cioè sindacati, lavoratori e nelle filiere del legno. La comunità del Parco, però addetta dei presenti, non ha voluto essere protagonista delle scelte del territorio, una verità che comunque emerge dai banchi vuoti del Cineteatro Sibaris. Hanno vinto arroganza e inciviltà, spiegano dal fronte del sì. I sindaci assenti, che si sono schierati dalla parte del no, sarebbero dovuti venire comunque all'incontro e votare contro. Così invece siamo punti a capo perché i rappresentanti del territorio hanno deciso di non scegliere, rimandando nelle mani del presidente del Parco, Domenico Pappaterra, e del direttore dell'ente, Alessandro Berardone, il compito di fornire alla Regione Calabria una risposta definitiva. Presenti ma non in sale, i sindaci di Rotonda e Vigenello, che puntano il dito contro i vertici del Parco del Pollino, perché avrebbero alimentato incertezze e desesperazioni, dichiarandosi dapprima completamente contrari alla riattivazione, e successivamente aperti alle esigenze dei lavoratori della centrale. Dunque un mese di rinvii da parte della comunità del Parco per produrre un non voto, ed ora sarà la Regione Calabria a decidere anche per i Lucani e scrivere entro dieci giorni la parola fine su una questione che dura ormai da un decennio.